ciao fragolina nuovo video allora come leggete dal titolo ho fatto shopping un pazzo perché sono andata a milano e se non avete visto il video blog della recensione del negozio praticamente bar chiara ferragni andatelo a vidiri vi faccio vedere cosa ho comprato a milano allora sono andata da declaton alcott poi vabbè espresso perché era ferragni ve lo voglio far vedere anche qua per chi non ha visto il blog vi faccio vedere quello che ho acquistato e poi vabbè poi sono andata aggrandate a como e ho preso praticamente da pittarello però dato che sono tante cose per cui faccio spero di fare un po più veloce vi ricordo prima di iniziare questo video di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video fermi un like e seguirmi su instagram che li pubblico quello che faccio prima di youtube in poche parole comunque iniziamo perché sono tante cose allora iniziamo da pittarello è la scatola grande infatti ho avuto un po di difficoltà a fare l'anteprima non riuscivo a capire come farla perché ci sono tanti sacchetti allora iniziamo da diciamo dal primo paio di scarpe che però voglio farvi vedere quello che ha preso il mio ragazzo però solo queste perché le altre le ha già indossate per cui queste qua della puma queste la pagate 39 euro e 90 invece che 55 euro praticamente ci sono i saldi e in promozione sì poi vi faccio vedere come sono fatte le ha presi così sono grigie con diciamo grigie e verdi con il logo fatte così sono leggerissime si possono diciamo tra virgolette piegare e sono fatte così ve le faccio vedere veloci perché sennò sono due perché sennò questo video dura troppo e non ce la faccio poi a farvi vedere tutto comunque il mio ragazzo ha preso sia queste che le altre scarpe che invece di pagarle 18 euro c'era almeno 20 per cento di sconto sulle altre scarpe che praticamente sono nere scusate se non ve le faccio vedere ma ce l'ha lui indossate comunque poi passiamo questo sacchettino l'ha divisi in due perché non ci stavano erano tre paia di scarpe io ne ho presi due e lui ne ha presi due poche parole allora dato che mi si sono rotte le scarpe due paia di scarpe stile alla fine ho dovuto comprarle io ho preso queste qua che invece di 23 euro con il meno 20 per cento di sconto si iniziamo bene questo video c'era il meno 25 il meno 20 per cento di sconto ce la posso fare ma perché è il caldo e sto impazzendo non posso neanche accendere il ventilatore perché sennò non sentite niente però vado veloce ho preso queste qua che pensando che erano più bassine e non lo so ho preso leggermente un po altine io in teoria ci cammino perché ci cammino poi se le scarpe non sono comode sarà un po difficile camminarci dato che volevo prendere le stesse scarpe con un po di tacco che non so se avete visto nel blog ma direi che queste qua forse sono un po altina confronto delle altre che avevo comunque preso queste qua sono nere con un po di argento praticamente sono comode perché lo provate io porto il 39 di piede e si hanno il tacco un po più altino però l'importante che sono comunque queste qua ho preso e va bella la marca sono tutte marche strane per cui inutile che ve le dico poi altro paia di scarpe queste qua 17 c'è invece di 17 euro il meno 20 per cento di sconto alla cassa che tanto vi dirò dopo i prezzi ho preso queste qua molto più basse perché devo andarci in giro e cammino diciamo se devo andare in giro e camminare tanto mi servono delle scarpe abbastanza basse perché sennò non riuscirò mai a camminare tutto il giorno e ho preso queste qua che sono anche queste leggermente con pochissimo tacco non sono tanto tanto basse perché quelle basse che volevo non mi piaceva neanche uno e ho preso questi che praticamente sono così io non sono brava diciamo a descrivere il prodotto però ve le faccio vedere ma tanto si capisce che praticamente sono così ve le faccio vedere due e ho preso queste qua queste sono veramente comode e mi ho preso apposta perché sono comodissime e dato che mi servivano ho preso questi due volevo prendere anche le scarpe normali solo che poi poi tipo da da ginnastica poi alla fine non mi convinceva allora ho detto prendiamo questi due poi si vedrà poi sempre da pittarello faccio vedere allora sempre da pittarello ho preso questa maglietta allora le cose indossate scarpe vestiti robe varie non ve le faccio vedere perché sennò questo video dura l'eternità e sarà non vado veloce allora questo questa maglietta praticamente verde militare fatta allora facciamo così che così la vedete meglio praticamente fatta così ed è abbastanza non dico lunga lunga ma giusta per me ed è così dietro è fatta così normale questa dato che mi piaceva il colore e dato che ho visto che il colore verde militare mi sta veramente bene ero impazzita perché stavo cercando tipo questo colore qua questo l'ho pagata a 14 euro praticamente taglia unica ed è molto carino poi dato che ho poche magliette ho voluto prendere questa poi ho preso anche questo vestitino sempre militare allora ve lo faccio vedere con così perché se no non capite niente è un vestito lungo fatto così questo dico anche questo 14 euro fatto così verde militare e lungo è un vestito normale lungo l'unica cosa che non mi piace è il dettaglio qua in mezzo perché c'è la riga ed ero un po indecisa se prenderlo o no solo che poi ho visto che mi piace cioè che indossato è un bel colore e mi sta bene specialmente il sopra allora ho detto perché la devo lasciare giù c'è il perché poi giù dove ci sono le ginocchia il vestito è un po così e non lo so non è che mi piace tanto quando va in giù ma il su si e allora alla fine l'ho preso perché io questi colori non ce li ho e li ho voluti prendere perché ho detto vabbè dai prima o poi lo devo utilizzare perché il colore bellissimo vi dico il prezzo allora abbiamo speso 111 euro e 50 perché ci sono anche le due scarpe del mio ragazzo in poche parole allora quello della puma ve l'ho detto allora questi sono i prezzi faccio così che faccio prima perché sennò ora che ve le dico ciao ci mettiamo l'anno prossimo anche perché sinceramente non ci capisco niente quando scrivono sullo sconterino degli sconti robe varie comunque in totale 111 euro e 50 solo per quattro paia di scarpe e due vestiti poi passiamo ad alcott alcott c'erano tanti sconti ma la mia taglia è quasi impossibile trovarla sui negozi quindi l'unico che riesco a trovare le taglie sono sui negozi online ma sui negozi non riesco mai a trovare le mie taglie tranne una che praticamente era solo questo che adesso vi faccio vedere intanto prendo lo scontrino questo è il secchettino molto carino allora intanto vi dico che lo scontrino sembra lungo 3 metri ma alla fine c'è solo una cosa che invece di pagarla 12,95 euro l'ho pagata 9,99 euro questo è quello che ho speso perché alla fine mi piaceva solo questo volevo prenderlo anche blu solo che poi il mio ragazzo fa no prendene uno se poi dopo non ti piace infatti non ho provato niente perché c'era una fila della madonna per provare dei vestiti ha un buon odore non so perché sembra che ci hanno messo un profumo addosso comunque io ho preso una itzelle era in promozione allora l'ho preso e ho preso questo vestito tanto poi nei vlog ve li farò vedere come mi stanno questo vestito normale così e in poche parole va giù fino alle ginocchia per cui il vestito è normale fatto così e puoi regolare le spalline ed è carino mi sta bene perché l'ho già provato quando sono arrivata a casa tanto poi alla fine ho detto il mezzello il vestito è largo vedi se un vestito è largo oppure no per cui ho detto inutile provarlo perché tanto poi alla fine c'è e niente ho preso quello lì poi passiamo a questo di Chiara Ferragni che avete già visto nel vlog ma chi non l'ha visto vabbè ve lo faccio vedere lo stesso allora questo ho speso 29 euro questo è lo scontrino non vi spiego dove l'ho preso qui lassù giù perché se volete andate a vedere il vlog ve lo faccio vedere solo veloce che è praticamente allora il pack è fatto così e questa è la scatolina che voi aprite qua qua dentro ci sono questi e ho preso la con il logo di Chiara Ferragni è praticamente tutta rosa e ha la scritta qua Chiara Ferragni di qua Nespresso invece dentro è praticamente così che mettete diciamo cappuccino caffè tutto bello caldo voi lo mettete qua dentro e secondo me è troppo figo troppo bello e alla fine volevo prendere questo che l'altro ma l'altro non c'era che era tipo una tazzina e alla fine ho preso questo perché mi piaceva di più per cui questo è quello che ho preso da Nespresso per Chiara Ferragni poi passiamo l'ultima cosa del Declaton che è questo sacchetto enorme fatto così c'è tanta roba per cui adesso vi faccio vedere che cosa c'è allora per prima cosa vi faccio vedere le scarpe che ho comprato che le ho già usate perché quando sono andata a Milano avevo le scarpe che ormai erano praticamente quasi rotte e dato che mi faceva male il piede perché avevo un po' di tacco e non erano tanto comode non riuscivo più a camminare alla fine sono andata alla Declaton e ho preso queste scarpe qua che praticamente l'ho pagate 19 euro queste 20 euro sono sussi rosse sono nere ho detto mi servono e le usate fino a quando sono andate in giro per tutto per tutto Milano i prezzi ve li dico dopo e vi faccio vedere cosa ho preso allora ho preso questo qua che praticamente è il supporto per farti tenere dritto con la schiena dato che io ho la schiena praticamente infiammata praticamente con questo ovviamente non è che migliora però ti tiene la schiena dritta ed è diciamo comodo da inserire da tirare io ho preso la taglia 3 perché c'è taglia 2 e taglia 1 la mia taglia è la 3 praticamente è una cintura lombare rinforzata ripresa dallo sport indicata in caso di dolori lombari medi questo è la cintura in poche parole è molto bella ed è comoda questa fatta così dopo poi ve la farò vedere meglio nel blog quando avevo intenzione di fare un video su allenamenti e robe varie per cui più avanti forse a settembre vi farò vedere sia come si usa e qualche allenamento così poi passiamo andiamo un po più veloce perché sennò ciao allora magliette ho preso la L it's l perché dato che mi sono trovata bene con queste magliette che sono talmente leggere allora adesso le faccio vedere veloci perché cambiano solo il colore ma il modello è praticamente questo qua ho preso tipo un lilla così semplice dietro è fatto così ma l'avete già visto perché l'avevo già fatto vedere questo qua se non sbaglio 4 euro non mi ricordo comunque dopo ve lo dico il prezzo ho preso lilla ho preso sia questo colore che gli altri che adesso vi farò vedere piano piano quando escono perché ciao poi ho preso questi pantaloncini tipo che arrivano dove ci sono le ginocchia fatte così nere questa è una it's l arriva praticamente fino alle ginocchia queste mi aiutano quando devo mettere tipo la gonna che io problema le gambe e metto questi pantaloncini qua in poche parole ho presi neri così poi ho preso la maglietta dell'adidas così in promozione ho preso sia questa qua rosa fatta così semplice questa 14 euro se non mi sbaglio non ci sono i prezzi questa è una l dipende poi dalla maglietta perché ad esempio questa qua è già lunga come maglietta vado veloce poi ho preso sempre un'altra maglietta però grigia fatta così questa è fatta così grigia con i pallini poi ho preso quest'altra maglietta leggerissima che in teoria questo è per lo sport è tipo per lo sport ha praticamente è scollata è fatta così infatti si vede che è trasparente leggerissimissima semplice che va giù diciamo che non l'ho provata però credo che mi sta perché la taglia è tra lhl che questa la marca è dominus queste marche con questa marca qua io mi sto trovando bene perché ho tantissime magliette della del claton così e ho preso sia questa che sempre l'altra maglietta che vi ho fatto vedere lilla ma l'ho presa nera fatta così nera semplicissima poi l'ho presa azzurra dato che sono comodissime leggerissime le ho presi tutti i colori quelli che c'erano non c'era blu però lo volevo prendere anche blu e ho preso questa e poi altri pantaloncini uguali a quelli di prima fatti così sempre della marca dominus perché è fantastica sta marca poi mi sembra un'altra maglietta sempre nera uguale forse questa uguale identica uguale all'altra poi ho preso ancora rosa porte io dico così perché non so pronunciare l'altra parola allora dico così per non sbagliare comunque questo che ce l'ho già ma dato che mi piaceva non ho preso un'altra così sono praticamente uguali poi ho preso due questi qua che io sono andata apposta alla declaton perché uno mi si è diciamo rotto e allora ho preso due asciugacapelli questi sono favolosi ve li straconsiglio c'era solo questo colore questi sono ottimi per i capelli perché voi li lega le legate con questo asciugamano dopo la doccia ve li asciuga dopo mezz'oretta un'oretta vi asciuga i capelli ed è comodissima l'ho preso uguali tutte e due rosa ve le straconsiglio perché sono ottime come come asciuga capelli poi per finire ho preso altra canottiera questo un rosetto un rosa chiaro fatto così ve l'ho detto queste sono comodissime sono leggerissime e vi assicuro che sono fantastiche come canottiere e poi questa bianca dell'adidas solo perché non c'era la mia mia taglia se non ne prendevo due perché queste sono bianche dell'adidas sono fantastiche questo però ho preso una it cell e alla fine queste per andare in giro secondo me c'era solo quei due colori rosa e e bianca e poi ho preso le calze perché giustamente prendere per forza le calze per le scarpe sennò mi facevano male i piedi se non mettevo le calze le calze quando usavo le le scarpe infatti lo usate gli altri le altre due paia ce l'ho a lavare che sono questi qua fatte così e sono abbastanza pesantina perché queste sono per lo sport per cui erano praticamente due paia e ovviamente poi abbiamo comprato la la faccia il sacchetto della declaton che questo qua che questo costava un euro infatti poi si piega perché ha una sua taschetta e si mette dentro questo è il sacchettino della declaton totale andiamo a vedere il totale 182 euro e 82 questo è il totale uno scontrino più di 200 quasi 200 euro quasi perché calcolando tutte le altre cose che ho preso alla fine abbiamo speso più di 200 euro qualcosa allora i prezzi dato che qua non capisco mai perché alla fine se voi vedete qua ci sono i nomi un po cioè non i nomi giusti per cui io ve li metto ovviamente quando vi faccio dare la maglietta così almeno sapete praticamente i prezzi perché ora che sto qua a farvi a dire tutti i prezzi secondo me ci mettiamo l'anno prossimo e poi questo video credo che dura tanto fin troppo per cui direi che i prezzi ve li metterò su di fianco quando vi mostro le cose allora detto questo che il video è durato un po tantino scusate se è durato tanto ma volevo farvele vedere tutte così almeno non devo fare due parti di video per cui scusate ma ho cercato di andare più veloce possibile detto questo noi ci vediamo nel prossimo video di sicuro farò un altro shopping che lo vedete verso il 29 di luglio prima che farò una pausa su youtube per due settimane ovviamente in agosto vedete l'ultimo shopping il 29 di luglio comunque detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao e al prossimo video